Riqualificazione urbanistica, vivibilità, valorizzazione delle risorse culturali. Questi i principali temi dell'incontro organizzato presso la Sala Convegni del Complesso dei Padri della Missione ai Vergini. Un incontro tra alcuni rappresentanti della Giunta dei Magistris con associazioni, consiglieri di quartiere e cittadini del Rione Sanità. Un importante appuntamento voluto dalla terza Municipalità per mettere a confronto idee e opinioni di chi vive ed opera nella sanità. Tantissimi presenti tra cui rappresentanti di associazioni del territorio come La Voce di Ada, Cela Napoli, Vergini Sanità, Antonio De Curtis e Cooperativa Rione Sanità. Da una parte i cittadini dunque, dall'altra gli assessori De Falco, Donati, Narducci, Tuccillo e Palmieri in rappresentanza dell'intera Giunta. Da tutte le associazioni che sono intervenute un'esigenza comune valorizzare una delle zone di Napoli più ricche di storia e cultura ma spesso ai margini degli interventi da parte dell'amministrazione comunale. Qui c'è storia, tradizione, cultura e dignità, ha detto Giuliana Di Sarno, presidente della Municipalità. I giovani sono stufi di essere considerati solo come coloro che sono sottratti alla criminalità. Noi siamo qui solo per ascoltare le vostre esigenze, più che per parlare e promettere, ha replicato l'assessore De Falco a nome dell'intera Giunta. Viviamo in una situazione di grandi ristrettezze economiche ma certamente faremo tutto quello che potremo per rilanciare la sanità.